Il prezzo delle mascherine chirurgiche è stato fissato a 50 centesimi più l'IVA e cioè in quanto ci sarà l'IVA a 0,61 centesimi e resterà quello. Purtroppo per gli speculatori ed altre categorie ad essi simili ciò è e ciò sarà. Allora, questo è il teschio e quindi significa che vanno a ammazzare i pirati sulla nave. Questo è il copra. Il significato è che quando va a mangiare qualcuno, a qualcuno, viene da qualcuno e questo si chiama copra mangiatori. Questo è l'orso polare. Questo è l'orso polare. Quando l'orso polare va in ritargo e quindi praticamente va in ritargo e va nella tana. Quando esce fuori va a caccia di predi. Questo è il leone col tribale. Leone, leone tribù. Leone tribù. Ciao! 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 Ciao!